Fortuna, pet therapy o coincidenza? Chiamiamola come vogliamo, ma sicuramente è una bella e rara storia in tempo di coronavirus. Ricoverata nella bolla covid da una decina di giorni nel reparto di pneumologia dell'ospedale San Donato di Arezzo, una donna di 80 anni non migliorava. Così il primario, Raffaele Scala, ha deciso di farla incontrare con il suo barboncino whisky, un batuffolo bianco di sei anni. Il personale sanitario lo ha portato, con tutte le precauzioni, fino al letto della donna, che intubata, ha potuto comunque chiamare il cane e ha fatto registrare anche un miglioramento nelle sue condizioni psicologiche e fisiche. A raccontare l'esperienza, la stessa ASL, il cui personale sanitario ha reso possibile l'incontro tra l'anziana e il suo padre. Certo, serve tutto in questi momenti difficili, veramente la sorpresa che ha fatto la mia coordinatrice con questa proposta, nata spontaneamente poi dalla paziente, dalla figlia, veramente è stato un aspetto certamente che poi ha permesso anche di alleggerire certe tensioni e dare poi un supporto psicologico anche significativo al paziente, perché sappiamo che l'avvicinamento di un animale.